Un cerotto, o meglio un vaccino, contro il Covid-19 nella forma di cerotto. Il vaccino cerotto è stato sperimentato, o meglio, sta per essere sperimentato in Svizzera, presso l'Università di Rosanna, su ben 26 volontari sanoni, a partire dal 10 gennaio 2022, lunedì. Il vaccino è di nuova generazione e funziona su un principio diverso da quei vaccini che conosciamo, non utilizza l'RNA messaggero, va a mirare a indurre un'immunità di tipo cellulare, piuttosto che produrre anticorpi andandosi ad affidare agli infociti T per uccidere, per togliere le cellule infetti dal virus, impedirne quindi la relativa riproduzione. È un vaccino di tipo complementare ad altri vaccini già esistenti nel nostro pianeta. Non intende sostituirli, così avrebbe Tualix Miao-Ton, padre della sperimentazione in questione. L'obiettivo è quello di determinare se il vaccino sia sicuro e non induca degli effetti collaterali, gravi o comunque piuttosto visibili. Il 12 gennaio si parte, ripeto, 2022, verrà somministrato a 26 volontari, sarà seguito per 6 mesi di tempo, i primi 6 mesi probabilmente dell'anno. Nella prima fase il vaccino non ha ancora la forma 18, ma verrà somministrato con dei piccoli aghi da meno di un millimetro, i risultati poi verranno messi in disposizione entro giugno del 2022. Insomma, potrebbe essere una rivoluzione in piena regola, secondo la mia opinione. Vediamo quello che succederà. Vi ringrazio per l'ascolto. Il video di Carmina qua. Iscrivetevi, commentate. Ciao da Narratori Italiano.